tieni qua un attimo che te lo spiego ti ho portato qua? no però ti hanno sbagliato beh beh fammi il bambino dai non hanno vinto una sciarpa hanno vinto un telefonino alla madonna no a puttana questo che è ciò come si fa a sbagliare a legge quella roba qua dai fai venire su cugino ai balottelli che ha vinto il telefono dai cosa cazzo c'è scritto sui? pota c'è scritto telefono ah è che non ci vedo mica pota eh si e pota mi sono dimenticato gli occhiali a casa e dopo c'è il tipo che mi ha dato il biglietto la dietro era mezzo ubriaco e leggi tu e non ci siamo proprio capiti figa pota ma sei bello in giro fuori anche te però vai pota ormai si sa c'è il pune c'è scritto telefono dai dunque va a te eh no no è del via che ti ha il bambino eh cugino di balottelli sarei tu vada via al culo a me mi interessa solo il telefono e questa cheda che è il bel dur oh guai bella storia dai che me lo da dai che me lo da mo dimenticare no H